Non solo è diseguale il fisco, è diseguale la distribuzione della ricchezza in questo paese e questa forbice è cresciuta enormemente, anzi la crisi, quest'ultima crisi, l'ha allargata ancora di più. L'onorevole Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana, fa tappa a Foggia per presentare Next Generation Tax, la legge di iniziativa popolare per l'introduzione di una patrimoniale sulle grandi ricchezze e per ridurre le tasse al ceto medio, lanciata da Sinistra Italiana e accolta da vari intellettuali ed economisti italiani. L'1% degli italiani ha il 25% della ricchezza complessiva del paese. Noi proponiamo di cancellare le forme di imposta patrimoniale che ci sono, inique e ingiuste, non progressive, IMU sulla seconda casa e imposta di bollo sui risparmi, ed introdurre un'unica imposta patrimoniale fortemente progressiva per fare cosa? Chiedere un pochino a chi ha tantissimo, per restituire molto a chi non ha nulla. In fondo non è punitivo per chi ha tantissimo, è una richiesta solidale e è molto importante per la grande maggioranza dei cittadini. Come sta rispondendo la comunità? Molto bene, ovunque si fanno i banchetti le persone firmano, perché sa, quando qualcuno capisce che una proposta avvantaggia il 95% della volazione, cioè quasi tutti, e chiede un piccolo sforzo, senza nessuna punizione, a una piccolissima minoranza, le persone firmano. Che tempi vi siete dati? Abbiamo tempo fino alla metà di dicembre, così prevede la norma per raggiungere le 50.000 firme, siamo già ben oltre la metà, quindi non abbiamo nessun dubbio che raggiungeremo l'obiettivo, vogliamo superarlo ampiamente perché vogliamo dare forza e partecipazione a questa proposta.